Sul territorio lombardo non è escluso che possano nascere altri CPR, i centri di permanenza per i rimpatri, come quello di Via Corelli a Milano, recentemente sequestrato e commissariato in seguito all'inchiesta giudiziaria che ha svelato la grave mancanza di diritti di cui erano privati gli ospiti. Ad affermare la possibilità di aprire nuove strutture ritenute essenziali per mantenere l'ordine pubblico è il sottosegretario all'autonomia in Regione, Mauro Piazza, su delega dell'assessore La Russa, in risposta all'interrogazione sull'ipotesi di aprire nuovi CPR da parte dei consiglieri di patto civico Luca Paladini e Michela Palestra. Innanzitutto non ha risposto nel Presidente e nell'assessore competente perché non c'erano in aula, in più era una risposta vaga. Noi sappiamo cosa è successo nel CPR di Via Corelli, sappiamo che è stato commissoriato in seguito a quelle che poi erano le denunce delle associazioni che andavano avanti da anni, violazione dei diritti, violazione della libertà, mancanza della cura e della salute e gravi problemi psichici per le persone che sono detenute e ai quali non vengono garantite i più basilari diritti da garantire agli individui. Quindi la domanda era semplice, si pensa di aprire nuovi CPR sapendo quello che comportano per la persona la mancanza del rispetto dei diritti? Ci sembra di intuire di sì, ci preoccupa da una parte il fatto che il Presidente aveva detto che non era disponibile all'apertura di nessun altro CPR, dall'altra una posizione molto differente dell'assessore La Russa che evidentemente ha prevalso. Per i consiglieri di patto civico così un'apertura da parte della maggioranza a nuovi CPR sul territorio, giustificando il loro aumento per garantire un minor sovraffollamento e un più dignitoso rispetto dei diritti umani è da considerare inaccettabile. Qua stiamo parlando, è bene ricordarlo perché non è mai sufficientemente sottolineato, di persone che hanno un problema con l'irregolarità delle immigrazioni, quindi non sono criminali, non possono essere accolti per le leggi dell'immigrazione in Italia e quindi devono essere espulsi. Siamo in quella fase di mezzo. Le proposte sono garantire in modo diverso i diritti di queste persone che qua non vengono rispettati, queste sono vere e proprie carceri, vere e proprie privazioni dei diritti individuali. Noi siamo fortunati, siamo nella parte migliore del mondo che garantisce i diritti e queste persone no. Almeno garantire loro i diritti credo che sia il punto di ripartenza per pianificare una diversa politica della gestione dell'immigrazione.